buongiorno e bentornati in questo video vedremo dei prismi di porro e vedremo come la luce entra in un punto del prisma di porro in un lato ed esce dall'altra parte in modo parallelo utilizziamo la luce non puntiforme quindi non è la migliore situazione però il concetto si riesce a vedere entriamo qui la luce entra di qui ed esce ecco entra di qui la vediamo che esce dalla parte opposta adesso indichiamo ecco qui dove esce niente in questo punto ed ecco così la nostra direzione dei raggi della luce questo il prisma di porro qui vediamo sempre un prisma di porro e vedremo qui ancora lo stesso concetto la luce entra in un punto ed esce dall'altra parte parallela a come entrata il nome questo prisma prisma di porro è in onore è dovuto al suo inventore ignazio porro topografo e ottico importante che nell'ottocento ha dato un contributo importante alla costruzione di strumenti scientifici e all'ottica qui vediamo appunto la luce entra a sinistra ed esce a destra qui vediamo sempre altri due prismi di porro e cerchiamo anche qui di farvi vedere come vengono montati in alcuni strumenti come ad esempio i binocoli è un po' più difficile far vedere l'ingresso della luce però si vede qui entra luce in basso ed esce in alto grazie grazie